È stato un vasto incendio quello che c'è stato di recente a Roma, precisamente via Palmiro degli Arti, zona Centocelle, azzardo a dire Casilina e via Limitrofe. L'incendio è stato piuttosto ampio, 50 vigili del fuoco che si sono adoperati per cercare di spegnere le fiamme, via Fadda, via Casilina, via dei Romanisti, zona Centocelle, un parco letteralmente raso al suolo per colpo delle fiamme e delle abitazioni vicine al luogo di questo incendio che ovviamente sono rimaste traumatizzate. Le persone infatti non potevano, tra virgolette, uscire fuori di casa, non potevano tenere le finestre aperte, che con questo caldo è normale, che si debbano chiudere le finestre. Insomma, non si è potuto fare niente di tutto questo, per colpa della puzza di incendio, per colpa del fumo, va bene? Insomma, una cosa per me è una vicenda molto brutta, molto triste e molto negativa, quella che ovviamente c'è stata di recente a Roma, zona Centocelle, via Casilina, via dei Romanisti. È stata aperta addirittura un'ipona, chiamiamola, indagine da parte della Procura di Roma. Nessuna ipotesi adesso, al momento. E scusa. Ciao a tutti da Narro di italiano.